Allora, andiamo a dire che nell'ambito del festival vicino e lontano, ON, dialoghi al tempo del virus in diretta streaming, in collaborazione con Historia, gruppo studi storici e sociali di Pordenone. Tutto questo martedì prossimo, 19 maggio alle 21. Globalizzazione malata con Lucio Caracciolo, Guido Crainz e Maurizio Scarpari, conduce Guglielmo Cevolin, che interviene in merito a Silvia Romano, al suo rientro in Italia. Ascoltiamolo. A chi attribuire il successo della liberazione di Silvia Romano? Posso rispondere a questa domanda nella veste di nuovo membro della Società Italiana di Intelligence, appena costruita e costituita dal professor Mario Caliciuri dell'Università della Calabria, e quale membro del consiglio di corso del Master in Intelligence and Information Technology dell'Università di Udine, master diretto dal nostro professor Gianluca Foresti e voluto dal rettore, dall'ex rettore professor Dettoni, e del quale il sottoscritto è il responsabile per il settore diritto e geopolitica. In primo luogo è un successo dei nostri servizi segreti che hanno risolto il problema, tenete presente un fallimento, per esempio quello del caso Regeni. Dall'altro lato dobbiamo verificare il significato dal punto di vista politico anche di questo successo. Sicuramente il ruolo maggiore l'ha avuto l'Aise, quindi il servizio esterno che dipende dal DIS e che dipende dal capo del governo, dal Presidente del Consiglio, che non ha voluto delegare un sottosegretario a questo ruolo di controllo dei servizi. L'Aise ha collaborato con i servizi keniani, kenioti, che sono il luogo dove è avvenuto il rapimento e hanno collaborato con i servizi turchi che per certi versi ci stanno sostituendo nel nostro ruolo di influenza nell'ex Somalia italiana, come ci stanno sostituendo la Turchia con riferimento alla Libia. Quindi qui il coinvolgimento dei servizi turchi crea un piccolo problema perché manifesta ancora la perdita della nostra influenza, la conferma, in Africa nelle zone nelle quali, pensiamo ai francesi, continuano a controllare questi territori, noi non abbiamo più influenza diretta, principale. Può essere giusto, può essere sbagliato, certo la perdita di influenza in questo caso dimostrata. Poi c'è il tema del pagamento e su questo concludo. Prima di tutto non è necessariamente vergognoso pagare, tuttavia può essere pericoloso un po' perché si finanzia il terrorismo islamista, qui la liberazione è avvenuta da parte di un settore di Al-Qaeda e quindi dare, sembra qualche milione di euro, questo si trasforma immediatamente in Kalashnikov che costano in Africa circa 2000 euro l'uno, quindi questo pericolo. E poi l'altro pericolo è questo, cioè se siamo solo noi a pagare, cosa che non è vera, ma se siamo solo noi a pagare i cosiddetti walking money che sarebbero gli occidentali, i cooperanti occidentali, in quanto se presi prigionieri poi si può chiedere riscatto, se fossimo solo noi quelli che pagano è chiaro che questi terroristi si rivolgerebbero solo a sequestri di italiani e invece agli inglesi, agli americani e ai francesi eviterebbero di rapirli perché lì si può andare a finire male con delle sparatorie, con delle situazioni concitate di pericolo, mentre noi saremo più tranquilli, quindi molto probabilmente non è così, non siamo solo noi a pagare. Certo un tema potrebbe essere quello di imporre alle organizzazioni non governative che portano dei cooperanti delle assicurazioni per garantire anche poi il caso del rientro in caso di rapimento.